Dormire tanto fa bene Non è vero. In media un adulto sano dovrebbe dormire circa 7 ore a notte. Ogni ora in meno ha conseguenze dirette sulla salute, così però come le ore in eccesso. Gli effetti negativi di un eccesso di sonno sarebbero simili a quelli derivanti da uno stile di vita sbagliato, sovrappeso, disturbi cardiaci, diabete, obesità. Se si ha sempre la necessità di dormire di più potrebbe essere indice di qualcosa che non va e allora è meglio consultare un medico.